Si chiama Passamano Rete Solidale dell'evoluzione del precedente progetto non spreco pensato per sostenere le famiglie in difficoltà economica. Dal mese di novembre i menu abbienti non riceveranno più i buoni pasto ma avranno una tessera sanitaria utilizzata come bancomat. È ancora da stabilire la cifra che verrà caricata da spendere nei negozi convenzionati per l'acquisto di genere alimentari o prodotti di prima necessità ma si tratta di una tantum calcolata anche in base al numero di componenti del nucleo familiare. L'iniziativa riguarda i nove comuni dell'ambito sociale 6 di cui Fano è capofila e vede coinvolti anche la fondazione Cassa di Risparmio di Fano, le cooperative Gerico e i talenti e l'associazione Domomia. Gli interventi sono aggiuntivi, sono quello dell'acquisto degli stock di beni alimentari direttamente all'ingrosso, soprattutto beni alimentari a più lunga conservazione e poi la modalità dei buoni spesa che riprende un po' quello che si era fatto anche durante il lockdown per andare incontro alle famiglie, ai nuclei familiari più indigenti, più in difficoltà economica ma con una modalità innovativa che è quella dell'utilizzo della tessera sanitaria. L'accredito spiegatinti avverrà direttamente sulla tessera sanitaria delle famiglie seguite dai servizi sociali dell'ambito. Fano si è già dotata di questo strumento ma nei prossimi giorni si fare in modo che anche gli altri comuni lo possano utilizzare. Il progetto che dura tre anni è stato presentato al Codma di Rosciano. Verranno previsti dei presidi direttamente sui territori. Ogni comune con una periodicità, con una frequenza di ogni 15 giorni vedrà direttamente sul posto, grazie anche alla collaborazione che potrà nascere con delle associazioni di volontariato del posto, la consegna dei materiali e quindi dei beni di prima necessità o dei beni appunto per la spesa alimentare.